La prossima edizione di incontri d'autore si è svolta venerdì 13 agosto 2021 alle ore 21.30 presso Piazza del Porto a Casalvelino la presentazione del libro di Roberto Napoletano dal titolo Mario Draghi, il ritorno del Cavaliere Bianco. Sono intervenuti il senatore Andrea Cioffi, il senatore Francesco Castiello e il presidente della Codacons Cilento Bartolomeo Lanzara. Grazie a tutti.